non ho niente contro le città sono nato a milano ho vissuto a milano in tante altre città ho vissuto sicuramente la maggior parte della mia vita in città però devo dire una cosa quando mi capita di andare in una grande città sebbene sia contento di andarci mi possa godere la giornata arrivo alla fine del giorno che sono esausto sono veramente stanco ma non sono stanco perché ho fatto chissà che cosa in termini fisici sono proprio stanco della confusione del caos dei suoni dei rumori sono stanco della calca di gente insomma credo che lo stress da città sia abbastanza sottovalutato è chiaro chi ci vive deve farsi una ragione deve provare a sopravvivere ma credo che in sempre più persone emerga proprio questo desiderio di andarsene di andare via di respirare un po d'aria fresca di essere nel verde di essere in un prato di essere in mezzo a un bosco e non è soltanto un desiderio così diciamo vago è fondato scientificamente fondato esistono tanti dati che dimostrano come la permanenza in natura sia in grado di rigenerarci di ridurre i livelli di stress di potenziare il nostro sistema immunitario del resto è evidente noi non siamo fatti per la città siamo fatti per la natura la città è un compromesso ci serve ci ha servito ci dà tante cose ma è chiaro che la nostra biologia si sincronizza e sintonizza sulla biologia del verde dei boschi della natura con i suoi suoni con la sua pace credo che questo sia e sarà sempre di più una necessità cioè garantirsi delle oasi di pace dei momenti in cui sei in grado di andartene sei in grado di isolarti di cambiare posto ecco la raccomandazione di provare a farlo veramente io credo che almeno una volta alla settimana dovremmo trovare il modo di trascorrere un po di tempo in mezzo alla natura che può essere sicuramente un bosco può essere un parco ma può essere anche un giardino può essere anche un luogo in città ma dove ci sono degli alberi dove c'è un po d'erba e poi credo che di tanto in tanto dovremmo permetterci di fare qualcosina in più e qui la raccomandazione che voglio fare di sfruttare bene le vacanze cioè se io penso alla quantità di persone che vive in città in condizioni di stress e poi perché si sceglie un posto di vacanza finisce di nuovo in infinite code nella calca nel caos nella confusione del non trovare i parcheggi ecco beh io non sono fatto così non riesco a farlo quando vado in vacanza voglio isolarmi vado in posti dove non c'è tanta gente li scelgo apposta perché comunque sia anche se ora da parecchi anni vivo in mezzo alla natura sento il bisogno di continuare a starci anche quando sono in vacanza salvo rari episodi in cui magari passo due giorni in città a vedere che ne so un museo a vedere una mostra o per ragioni di lavoro ma la raccomandazione che faccio è provate a garantirvi questi spazi scegliete dei luoghi di vacanza che vi permettano di tornare al lavoro in città ricaricati e non più stanchi di prima non puntate soltanto sulla distrazione sul divertimento tutte cose lecite ma puntate anche sulla crescita sull'interiorità sullo scoprire se stessi sul trovare un grado maggiore di armonia con se stessi con gli altri e con il mondo e la natura in questo senso ha una potenza veramente molto molto forte su di noi quindi un po' di natura ogni settimana come riesco dove mi trovo e almeno qualche volta all'anno garantirsi un po' di vacanza in un luogo che permetta di recuperare di rigenerarsi di abbassare i livelli di stress di ritrovare armonia in se stessi e magari anche di crescere in questo senso voglio anche dire se lo vuoi fare con noi questo lo possiamo fare insieme quest'anno faremo la seconda edizione del nostro ritiro in montagna è stato bellissimo l'anno scorso è piaciuto tantissimo a noi è piaciuto tantissimo ai partecipanti siamo un gruppo abbastanza ristretto di persone andiamo in montagna qui in svizzera stiamo insieme in mezzo alla natura due giorni e mezzo a mangiare le cose giuste a fare attività fisica a fare delle escursioni ma in parallelo a tutto questo anche facciamo un percorso di crescita personale vero e proprio in modo tale da abbinare due cose la permanenza in natura lo svago la distrazione ma anche appunto la crescita e il miglioramento personale e il prossimo ritiro sarà il 24 il 25 giugno se vuoi qualche informazione in più su come funziona trovi un link da seguire qui sotto ma più importante di questo è permettiti questa cosa togli qualcos'altro togli qualcosa che magari tu sai non te lo devo dire io che non è così fondamentale che magari fai un po per prassi ma non è una cosa che ti rigenera prova a rivedere la lista delle tue priorità sono sicuro che ci saranno delle cose che troverai il modo di mettere in disparte e magari ti puoi dare l'occasione per invece fare un passo in un'altra direzione in una direzione nuova e se lo vorrai fare insieme a noi saremmo felici di essere al tuo fianco ciao